spiritualizzare cosa vuol dire vuol dire io sono uno spirito eterno tu sei uno spirito eterno tu hai un corpo e un corpo una mente una mente spiritualizzare vuol dire liberare corpo e mente dalle negatività quindi cominciamo con questa affermazione positiva voglio che ogni negatività abbandono immediatamente il mio corpo la mia mente allora dove si vede che c'è stato l'abbandono di ogni negatività nella propria salute fisica e mentale mentale fisica e nelle relazioni umane alla salute di tutte le relazioni umane bisogna essere chiari di sé tanti chiari come l'acqua di sé tanti ogni relazione deve essere spiritualizzata non ci resta secondi fini conflitto di interesse manipolazione inganno no perché chi inganna si avvelena ma come quello vissuto fino a 98 anni non si avvelenato quello bisogna vedere la mente in che condizioni sta fare del bene fa bene chi aiuta gli altri aiuta se stesso ma chi aiuta se stesso non si avvelena quindi spiritualizzare le relazioni umane vuol dire valorizzare vuol dire elevare innalzare purificare ogni relazione umana la più grande ricchezza è il tesoro chi trova un amico chi trova un amico trova un tesoro ma allora perché non c'è amicizia perché non siamo tutti ricchi di tesori cosa manca per trasformare una relazione in un tesoro la spiritualizzazione faccio l'esempio di questa camicia è venuto a trovarmi il mio amico matteo mi ha detto sai per il mio compleanno ho capito che gli avevano regalato ma regalato a sta camicia mi sta larga la vuoi tu e io l'ho indossata eccola qua oggi ciao matteo magari una cosa che noi abbiamo a noi non ci serve più può servire qualcosa e parliamo di oggetti camicia camicia mi è arrivata ieri oggi l'ho messa è modo di dire io sono me l'ha regalata qualche tempo fa oggi l'ho messa ma che me l'ha regalata ieri una settimana mi è stata regalata perché dato a quella persona matteo ciao ciao a cui è stata regalata era grande la camicia quindi c'è qualcuno se gli stava piccola doveva andare da uno più quindi noi dobbiamo far girare non solo gli oggetti anche i pensieri l'emozione le parole l'energia quella la spiritualizzazione se voi mi scrivete e volete i miei libri vanno a un programma umanitario orfani lebrosi in india che gli diamo il senzatetto in italia ma prendete i miei libri quindi in questo momento propongo uno scambio io ti mando i miei libri con dedica tu mandi una donazione alla onlus ma come si chiama la onlus libera condivisione in questo caso mandiamo soldi in india o abbiamo aiutato in italia aiutiamo ma quella la spiritualizzazione sul piano materiale degli oggetti qualcuno ha fame lo aiutiamo una camicia in più un paio di scarpe in più dei vestiti in più aiutiamo delle persone che in italia hanno bisogno ed energeticamente mando il mio amore e la mia buona energia a tutti gli esseri viventi del pianeta terra ma è accettabile che 60 milioni di italiani devono far uccidere ogni anno milioni di animali allevati male a voglia che adesso con le galline allevate a terra allora perché lo dici allevate per essere ucciso a terra è meglio che nelle gabbie ma sono sempre allevamenti industriali sono allevamenti industriali dove non arriva l'aria il sole danno antibiotici che di spiritualizzare l'alimentazione spiritualizzare i rapporti sessuali no violenza sessuale molti pensano che farla in gruppo è meglio poi fanno pure i video quelli che fanno i video cos'è chi vogliono diventare forse è meglio se fanno un video così è la prova certa che hanno commesso quel crimine ma quel crimine da dove viene che a scuola in famiglia non insegnano a spiritualizzare le relazioni umane cosa viene insegnata si il numero uno si il primo si la più bella fatti valere la vita non deve essere esistenza non deve essere una battaglia quindi spiritualizzare le relazioni umane vuol dire arricchiscite diventa ricco di tesori che sono i buoni amici quindi io ringrazio chi mi amico li ho ho degli amici non potrei fare questi video se non avessi qualcuno dietro una telecamera questo non è neanche casa mia una stanza che mi è stata data da un amico che abita vicino a me francesco grazie francesco no poi c'è un'altra persona che fa il video grazie quindi questi sono veri amici perché perché grazie a loro posso fare questo se vedete che c'è dalla pubblicità non l'ho messa io prima la mette youtube youtube io non pago e mi pare che hanno il diritto di mettere la pubblicità che vogliono che dura pochi secondi mi auguro che siano pubblicità positive hanno detto che c'è pubblicità di save the children emergency mi auguro che usino che non si mettano a pubblicizzare la carne prima dei miei video però io non sto prendendo soldi se vedete che c'è la pubblicità quello che faccio è fatto con amore sono mosso stimolato arricchito da emozioni spirituali faccio questi video perché a me spiritualmente piace fare questi video e ti consiglio di vederli con un'attitudine spirituale e diventare tu la persona che vorresti incontrare se tu diventi la persona che vorresti incontrare poi attrai delle persone positive quindi la mattina prova con quello che possiamo chiamare caffè spirituale questa affermazione oggi voglio incontrare le persone giuste prova tutte le mattine e poi se incontri qualcuno giusto scrive ciao ciao